coppa italia udinese e genoa avanzano monza con una vittoria da brivido coppa italia udinese genoa avanti monza con un finale da cardiopalma coppa italia udinese genoa avanti monza con un finale da cardiopalma nel primo turno della coppa italia diverse squadre hanno dimostrato le loro ambizioni tra cui udinese genoa e monza udinese è riuscita a imporsi con un'ottima prestazione contro l'avversario di categoria inferiore mentre il genoa ha mantenuto il sopravvento in un partita avvincente monza invece ha conquistato una vittoria da brivido che è rimasta in bilico fino all'ultimo minuto udinese ha mostrato una forte prestazione nella partita contro il modena la squadra si è creata precocemente alcune occasioni da gol e ha potuto già nel primo tempo andare in vantaggio in questo modo l'udinese si è assicurata una posizione di partenza confortevole che ha permesso alla squadra di gestire la partita in modo controllato l'allenatore ha sottolineato in particolare la difesa che ha reso difficile per il modena avviare attacchi pericolosi l'udinese è riuscita a vincere la partita con 2-0 qualificandosi così per il prossimo turno della coppa italia in un altro incontro il genoa ha superato la squadra del benevento la partita è stata emozionante sin dall'inizio con occasioni da entrambe le parti genoa ha potuto distaccarsi grazie a un gioco superiore nel secondo tempo è stato riportato che l'allenatore era soddisfatto della prestazione della squadra e ha lodato soprattutto il gioco di squadra coeso la partita si è conclusa infine con un 3-1 a favore del genoa che così si qualifica in sicurezza per il turno successivo della coppa italia e in drammatico scontro si è verificato tra monza i giocatori hanno iniziato forte ma hanno perso il filo del gioco nel corso della partita i loro avversari i temibili scandinavi hanno tenuto i giocatori di monza con il fiato sospeso e hanno pareggiato nella fase finale die Zuschauer erlebten ein echtes Nervenspiel als Monza in der letzten Minute einen entscheidenden Treffer erzielte der die Fans in Ekstase versetzte. Der Trainer war sichtlich erleichtert und gestand, dass es ein hart erkämpfter Sieg war, der ihnen jedoch das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Spiele geben sollte. Die Ergebnisse dieser Partien zeigen, dass die Mannschaften trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen ihrer Liga gewillt sind in der Coppa Italia weit zu kommen. I tifosi hanno vissuto un vero gioco di nervi, quando il Monza ha segnato un gol decisivo nell'ultimo minuto facendo eccitare i fan. L'allenatore era visibilmente sollevato e ha ammesso che è stata una vittoria duramente conquistata che dovrebbe dare loro la fiducia necessaria per le partite future. I risultati di queste partite mostrano che le squadre, nonostante le diverse situazioni della loro Lega, sono determinate a fare strada nella Coppa Italia. Ecco il testo tradotto in italiano. Soprattutto il fatto che il Monza ha dovuto lottare fino alla fine per l'Ottavità mette in evidenza il carattere imprevedibile della competizione ad eliminazione diretta. Giocatori allenatori sanno che in ogni turno si nascondono sorprese e che le squadre delle leghe inferiori possono spesso rivelarsi avversari temibili. Un particolare rilievo merita l'incontro tra Napoli e Modena. Anche se il Napoli non ha giocato in questo turno, la discussione intorno alla squadra è stata al centro dell'attenzione, soprattutto considerando le loro alte aspettative in Serie A e in Coppa. I fan e gli esperti si chiedono come si comporterà il Napoli nella prossima stagione e se saranno in grado di ripetere le loro performance sotto pressione. In sintesi, il primo turno della Coppa Italia ha offerto alcune partite emozionanti e le squadre udinese, Genoa e Monza hanno dimostrato di essere pronte a proseguire in questa prestigiosa competizione. Ora l'attenzione si rivolge ai prossimi turni, che sicuramente riserveranno ulteriori incontri entusiasmanti e sorprese. Autore Anita Faake, Sabatoed Stepp with Evitmen Greer.